Buongiorno, eccoci a una nuova puntata di Grandi Autori a casa tua. Oggi abbiamo il grande piacere di essere in compagnia di Andrea Baiani, finalista al premio Strega con questo bellissimo libro, il libro delle case. Questo libro è anche in finale al primo campiello, questo è anche da dire, e inoltre da ieri Andrea Baiani è anche in gara a un altro prestigioso premio per il primo di Arezzo con il suo libro di poesie. È vero Andrea? Sì, e devo dire che intanto buongiorno a tutti, benvenuti a tutte e tutti, che sì, mi fa in realtà molto piacere essere, al di là del fatto che avere dei riconoscimenti fa sempre piacere, ma averli poesia e prosa insieme in qualche modo è la fotografia del tipo di scrittore che sono, cioè che potrei dire o inquieto o che comunque ama giocare su più tavoli. Grazie. Ecco, io ci terrei a presentarti anche le compagne di viaggio che ho invitato per questa puntata e sono molto felice di avere insieme a noi, Anna Ramella, docente di lettere del liceo a Prozio di Ventimiglia e Angela Baglio, docente all'Istituto Varalli di Milano. Ecco, entrambe sono tue grandi lettrici e hanno amato molto il tuo libro e so che amano moltissimo anche le tue poesie, perciò anche il Baiani poeta. Ecco, e vorrei dare subito la parola a Anna Ramella. Sì, buongiorno a tutti e grazie di avermi insomma reso participe di questa conversazione, sono molto felice di questo e di conoscere Andrea Baiani. E allora prima ancora di parlare del romanzo, di cui poi parleremo dopo, mi piace proprio parlare anche del Baiani poeta, di cui ricordo, beh, promemoria sicuramente nel 2017, questo di Mora naturale, che è un libro di poesie bellissimo. Io le leggo, le rileggo, le faccio leggere, le leggo ad altri perché mi piacciono sono veramente, sono fulgoranti, sono notevoli. E allora mi è venuto in mente questo. Allora, leggendo invece il libro delle case, ho avuto sempre, come dire, in mente che la prosa di Baiani sia caratterizzata da tantissimi moduli e stilemi lirici. Cioè tante volte mi sono fermata sulla pagina sulla pagina e dire questo è un verso, qui c'è il ritmo, qui c'è il ritmo di Baiani, questa frase avrei potuto trovarla in una poesia di Baiani, no? È una scelta in parte, la trovo in controtendenza rispetto a molti narratori di oggi e mi piace tantissimo. E se me lo concedete, è una scelta anche un po' biamontiana per certi versi, per quanto, insomma, diversi siano Baiani e Biamonti naturalmente, ma per questa attenzione ad una prosa molto lirica. Sbaglio, Andrea, mi piacerebbe sentire una tua riflessione in merito a questo. Grazie, Anna. In realtà nei pochissimi minuti fuori onda che abbiamo avuto prima dell'inizio della registrazione abbiamo avuto il tempo di incontrarci nella poesia e in qualche modo il libro delle case di Mora Naturale sono parenti, sono parenti per tante ragioni. Intanto una di cui mi sono accorto solo a posteriori. Di Mora Naturale è un libro di poesie, sono tutte poesie di otto versi, in qualche modo sono tutte dedicate agli animali o alla natura o al rapporto tra l'uomo come specie e le altre specie sul pianeta. E quando ho dato il titolo al libro l'ho messo di Mora Naturale e poi solo dopo mi sono reso conto di quanto la di Mora sia la casa esattamente come il libro delle case. Cioè sono due libri che sono parenti perché entrambi parlano di case e non a caso parliamo di nidi quando parliamo degli animali. E di Mora Naturale è nato da dentro il libro delle case. Il libro delle case è un romanzo che mi ha portato molti anni via. A un certo punto mi sono interrotto perché dovevo scrivere un piccolo libro di poesia. Quindi è come se a un certo punto da due anni, tre anni di scrittura in cui parlavo, poi lo vedremo, della storia di un uomo raccontata attraverso le sue case, di colpo ho dovuto fermare tutto perché la poesia funziona così, che quando arriva bisogna mollare tutto, io lascio tutto perché la poesia arriva come un canto e ti arriva con un ritmo in testa e tu devi seguirla perché la poesia arriva e come è arrivata se ne va. E però è vero, e in questo senso hai perfettamente ragione, che il libro delle case è un libro tutto scritto nel ritmo della poesia. Infatti è sempre un po' curioso parlarne in maniera solo contenutistica. A me nelle tante presentazioni che come potete immaginare ho fatto in presenza e in assenza in questi mesi, mi è capitato molte volte naturalmente ed è giusto di parlare di case. Però questo è un libro di lingua, è un libro in cui la lingua, il modo di raccontare il ritmo è quasi una musica che dura 260 pagine. E per darti ragione fino in fondo, poi torniamo al libro delle case in senso stretto, anzi magari vi leggo una poesia di dimora naturale così lasciamo, concludiamo il capitolo, uno uno scrittore che è per me un fratello, come fosse un fratello reale, che è Fabio Stassi, che è la persona in qualche modo una delle persone che leggono prima di tutto le cose che io pubblicherò, e lui fa lo stesso con me i suoi romanzi che pubblica da Sellerio. A un certo punto gli mandai una pagina di un capitolo del libro delle case e lui fece questo gioco molto divertente e mi disse guarda che qua dentro tu fai il furbo, tu camuffi un poema, un libro di poesia dal libro in prosa e allora mi fece un esperimento un esperimento meraviglioso, cioè mi mandò l'intero capitolo in versi, cioè lui separò i versi, me li fece vedere e mi disse questi sono versi, poi tu lo puoi dire che questa è prosa, ma questo è pieno di endecasillabi, è pieno di centenari, è pieno di rime interne. A me la scrittura piace e mi piacciono gli scrittori che entri nella pagina è come se entrassi in un bosco in cui ti rispondono, le parole si parlano tra loro, ci sono i suoni. Allora a me questa è la scrittura e sono gli scrittori che mi sono sempre piaciuti e Biamonti che tu hai citato era per certi versi questa cosa in purezza, no? Cioè questa 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 specie di quasi secchissimo ridotto all'osso bisbiglio che però se lo guardavi da vicino era un fiore, no? Cioè una cosa che a sentirla sembra una roccia e che vai vicino ed è un fiore, no? Ma questa era la magia di Biamonti inarrivabile per me in quel tipo di prosa. Chiudo il capitolo come promesso con una piccola, è la seconda poesia di queste ottave che è molto semplice e che riguarda la ragione per cui si parla sempre degli animali però se ne parla solo quando si è piccoli. Poi gli animali Dio solo sa perché scompaiono ed è credo una delle miserie degli esseri umani. Due, come mai di colpo poi spariscono senza dare spiegazioni? Come mai nessuno vuole più sentire il verso del cavallo? Nessuno dice più nitrito, raglio, nessuno vuole più un barrito. Sono grandi glaciazioni, gli animali se ne vanno dalle case notte e tempo. Ci si sveglia e non c'è più l'infanzia. Basta. Lascia la parola agli altri. Alle altre. C'hai lasciato senza parole? È proprio vero che la tua scrittura ha un'energia irrifredabile come hanno scritto. Angela Baglio. Allora, buongiorno a tutti. Pordo anch'io il mio saluto ad Andrea Bagliani, alla nostra ospite Francesca Rotta Gentile, alla collega Anna Ramella con cui abbiamo scoperto di esserci sfiorate, incrociate negli incontri di cervo strega. E vorrei dire che sono qui sia come elettrice personale di questo libro che concorre al premio strega e anche come portavoce dei miei studenti del Varalli, ragazzi che hanno partecipato al progetto Giuria Giovani premio strega e hanno tante curiosità proprio sul testo, sui contenuti anche del testo. E quindi partirei subito con una domanda che riguarda i nomi delle case che sono protagoniste appunto di questo libro. Quindi ci si è chiesti come sono nati questi nomi. Forse c'è già stata un po' una risposta perché se è quasi una vena poetica che si espressa in questa scelta dei nomi non lo sappiamo, ce lo dirà adesso Andrea Baiani, però c'è un criterio di fondo, una linea comune che ha guidato questa ispirazione che ha dato origine ai nomi. Allora da un lato diciamo potrei rispondere in due modi, uno non letterario, uno molto umano e uno molto letterario che poi forse in parte sono parenti, sono la stessa cosa. Quello molto umano è che chiunque ricordi, quando proviamo a ricordare le case del passato, sì magari uno si ricorda l'indirizzo, ma tendenzialmente tra le persone le si nomina in qualche modo. Ti ricordi la casa, non lo so, la casa sulla, la casa in collina, cioè Pavese la chiama la casa in collina e ti ricordi quando eravamo nella casa, non so che, cioè tutti noi tendiamo a, in fondo questo è esattamente quello che le case sono, le case sono qualcosa di duro e freddo che stanno dentro un disegno cittadino o topografico, quale che sia la dimensione del paese, che è burocratico, no? Cioè la burocrazia decide che quella si chiama via Mazzini e che quell'altra si chiama via Roma, eccetera, eccetera, e però poi le case invece sono questa cosa, le case sono la convergenza tra qualcosa di burocratico, catastale e freddo e poi invece il tentativo di tutti di rendersene uniche e proprie, no? Pensate, che ne so, ai grandi edifici in cemento armato che sono orrendi da vedere da fuori e però ognuno con un'enorme bellissima dignità prova a trasformare quella casa in qualcosa di unico, quindi non direbbe via Mazzini ma dice casa mia, no? Dice quindi in fondo dire casa è tentare di sottrarre a quel tanto di burocrazia e di catastale che c'è in una casa per trasformarla in qualcosa che è tua, quindi la prima risposta è questa qui, cioè secondo me è un atteggiamento molto umano che sta nel rapporto con le case e la risposta letteraria, naturalmente ogni casa ha degli ecchi, no? Per me in parte sono dei nomi che sono dei nomi che hanno dei bei suoni, poi chiamare la casa del sottosuolo, ad esempio la prima casa evidentemente ha dei rimandi letterari molto espliciti e anche molto semplici, però in qualche modo è dire qualcosa, cioè la casa fondamentalmente nella costruzione di questo romanzo è un personaggio, quindi è un personaggio e quindi ha diritto ad avere il nome di un personaggio e non avere il nome di un indirizzo, scala B eccetera eccetera, anche se poi le mie descrizioni contengono anche nomi molto tecnici, ma diciamo il lato umano è rendersi propria, trasformare in propria una casa che può essere spersonalizzante e il lato letterario è trasformare la casa in un personaggio e quindi darle, se si può dire lei o dargli, se è lui, il caso, non lo so, il nome di un personaggio. Ecco, vorrei a proposito di questo leggere un passo, a pagina 120, la casa del per sempre, 2010, insomma mi ha colpito perché è una casa anche un po' metafisica, poi magari ci dirai. La casa del per sempre è a struttura circolare, la forma e la natura di un anello nuziale, in quanto ritrovato architettonico è tra quelli tecnologicamente più avanzati, compare dentro un palmo, può stare in una tasca. La misura esatta della casa del per sempre in cui io abita felice è dunque una circonferenza, 7,28 centimetri a essere precisi. Il diametro è di 2,37 millimetri. Da vuota pesa circa 4 grammi, quando io ci entra sono 4 grammi più 87 chili. È costruita integralmente in oro, il che la rende preziosa e facile agli abbagli. Quando il sole è alto, la casa del per sempre irradia luce tutto intorno. È il suo momento di massima difesa. La luce è lo schermo abbaccinante dietro cui io può riposare. Nessuno potrà mai importunarlo, perché nessun occhio riesce a sostenere tanto abbaglio tutto insieme. Ecco, poi insomma va avanti. Però volevo chiederti appunto qualcosa di questa casa appunto del per sempre e poi ho trovato questo libro, certamente un libro dedicato allo spazio appunto, allo spazio interno. Sappiamo, ognuno di noi forse in questo tempo di pandemia potrebbe dire qualcosa su un suo rapporto ritrovato o comunque cambiato nei confronti della propria casa. Però mi sembra anche un libro non solo dedicato allo spazio ma anche al tempo. Mi piacerebbe che mi dicessi qualcosa su questo. Sì, grazie per aver letto quei passi. Quello è uno dei capitoli che amo di più. Questo libro che appunto si può riassumere come la vita di un uomo raccontata attraverso le sue case è il racconto di tante cose. Il racconto di un matrimonio, della nascita di una famiglia, una famiglia come dire non convenzionale perché è costruita da un uomo e una donna che ha una figlia che però nonostante tentano di costruire una famiglia, convolano nozze eccetera eccetera. È il racconto di una vocazione letteraria in fondo di uno che diventa poeta ed è il racconto di una famiglia che in fondo un po' si distrugge per eccesso di rancore. E poi c'è l'Italia e tante cose di cui parleremo. Ecco però la casa del per sempre per me era un po' come l'anello nuziale. Per me aveva una gran bellezza perché diceva qualcosa di più delle case che in realtà le case di cui parlo dentro questo libro, che sono molte, quelle in muratura paradossalmente dicono di meno di quello che è una casa. Invece lo dice un anellino di pochi millimetri e c'è che ti dice che in fondo la casa è da un lato il posto in cui sei quello che sei senza spettatori, cioè non devi elaborare una versione di te per qualcun altro e poi la casa è quel posto che appunto oltre a consentirti di essere quello che sei senza spettatori ti protegge a dispetto nonostante o qualsiasi sia la sua solidità. Un bambino si fa a casa tirandosi su il lenzuolo nel letto, ci si può far casa e ci si può sentire le persone si accucciano e si mettono a dormire. Vedete persone per la strada che si mettono un cartone sopra e quello fa casa, perché la casa basta quasi la parola per proteggerci o dei piccoli gesti. E allora persino una fede nuziale, la fede nuziale è questa cosa che in fondo, e questo libro racconta momenti del matrimonio, compresa la sua dissoluzione finale, ma in quel momento lì è quello spazio minuscolo dove paradossalmente un uomo o una donna che pesano 80, 60 kg o quanto pesano, possono sentirsi e rintanarsi come se davvero fosse una cuccia dentro una piccola circonferenza. Ecco, per me era importante nel libro delle case dire questa cosa, no? Era importante dire che ci sono le case fatte di muratura, ma poi ci sono le persone casa, gli amici, gli oggetti casa, no? I bambini quando si portano dietro un orsetto è una casa, lo tengono in mano, ma è una casa, non ha il tetto, non ha la porta d'ingresso, ma quella cosa lì è una casa. Ecco, a me, dopo, diciamo, in questi tanti anni che ci ho messo a scrivere questo libro, in fondo volevo ringraziare le case che mi hanno protetto anche senza avere neanche un muro. Certo, bellissimo. Ecco, un altro passo. La morte di poeta è un albero in cemento, si innalza verso il mare, è un albero compatto, un monumento, il mausoleo di un secolo pietrificato. Io ho provato più volte a vederlo da vicino, ma ho trovato chiuso, l'ho fatto per puro istinto o per un richiamo. Ha guidato fino, ho guidato fino al litorale, ha parcheggiato poco avanti, poi l'ha guardato dalle sbarre, non ha sentito il raspare lento della tartaruga in mezzo all'erba, ogni volta è tornato indietro e ora è di nuovo qui davanti. La morte di poeta non ha foglie, ma un pieno incalcestruzzo, resiste alle stagioni, ha rigor mortis di acqua, sabbia ed elementi e il ferro a fare da garante. Ecco, qua c'è il riferimento a Pierpaolo Pasolini. Speravo che c'era forse una riga dopo in cui dicevo che lì è proprio davvero, poteva essere scritto in una poesia un verso tipo dove muoiono gli alberi, sorgono, dove muoiono gli uomini, sorgono alberi in cemento. La terra si prende i corpi e restituisce il cacestruzzo. Sì, che quella è un'immagine prettamente poetica. Pasolini, beh, questi sono appunto le due figure di Aldo Moro e di Pasolini, sono come i due elementi storici che stanno lì dentro e che in questo libro, che in fondo, come dicevi ben tu, è un libro sul tempo e quindi in qualche modo sulla memoria, su quello che conserviamo. Questo dice anche, sono le due figure che il protagonista, che io chiamo io, in qualche modo a fare una specie di tentativo di autobiografia impossibile e ci sono delle figure, delle cose che succedono che, come la morte di Pasolini alla porta di Moro, che possono succedere a una persona che ai tempi ha meno di tre anni e poi sono le cose che paradossalmente, quelle che avvengono prima di tre anni, sono quelle che non ricorderemo mai, ma contemporaneamente sono quelle che ci segnano per sempre. È questo strane paradosso dei primi tre anni in cui passeremo il tempo a essere qualcosa in conseguenza di qualcos'altro che noi non ricordiamo. In fondo la scrittura è l'unica, mi viene da dire, credo, che invece va a grattare, va ad accedere a quello spazio lì. Quindi queste due morti sono due morti che pur non essendo vissute possono fare le identità. In particolare nel caso del monumento del chiudo di Pasolini all'Idroscalo era interessante che un monumento fosse fatto in cemento armato, esattamente come un edificio di una casa popolare. Esatto. Anna Ramella sa che voleva dire qualcosa su questo. Volevo dire che è interessante il fatto che in questo romanzo, che è un romanzo fortemente individuale, racconta una storia limitata, privata, poi è interessante che entri in maniera forte la storia, quella con la S maiuscola, il rapimento, la morte, e soprattutto entri la morte, perché mi sembra che Bagliani si concentri più che altro sulla morte di Moro, sulla morte di Pasolini. E quindi è la storia individuale che si interseca con quella nazionale che mi sembra una cosa molto interessante e mi ha fatto pensare, non so, a una questione privata di Fenoglio. Ecco, quelle vicende privatissime poi però si ritrovano nella storia, nella storia. Nel caso c'è una casa, la casa del ballo nella questione privata dove lui ritorna e cerca di ricordare quell'amore che... Eh certo, non so, ma io ho pensato subito a Fenoglio, così, perché ho trovato dei punti di contatto molto interessanti. E poi, beh, sicuramente la figura di Pasolini, una figura che, senza negare nulla a Moro, ma dal punto di vista culturale la figura di Pasolini è una figura pregnante, no? Per te forse in particolar modo, cioè per tutti noi naturalmente forse anche in particolare per te che decidi di parlarne. Sì, per me fu veramente a 17 anni, a 18 anni fu la grande rivoluzione, fu la grande rivoluzione di quest'uomo che voleva capire, voleva conoscere tutto, che prende, va in una città, dal Friuli va a Roma, la legge palmo a palmo e in fondo Pasolini è, diciamo, lo scrittore più, per certi versi, più antropologo che abbiamo avuto, al di là del suo lato polemista, eccetera, eccetera. Ma insomma, è uno scrittore che sono stato contento di poter prima o poi ospitare, dopo essere stato io tante volte ospite dei suoi libri. E' vero, Angela Baglio? Sì, vorrei tornare, se possibile, alla dimensione invece più privata, più personale di questa narrazione e quindi al protagonista io. Intanto una cosa che ha colpito tanto i lettori è l'assenza dei nomi propri, quindi sia per il protagonista e poi anche degli altri personaggi che sono così presentati in rapporto appunto a Dio, quasi come se non avessero una piena personalità, ecco, o comunque come se la loro personalità, la loro visione delle cose fosse sempre legata principalmente alla prospettiva del protagonista. Ecco, vorremmo sapere qualcosa su questa scelta, è stata considerata una scelta coraggiosa dai ragazzi che all'inizio erano un pochino spiazzati, quasi si sentivano un po' rispinti, proprio per questa assenza del nome proprio. No, naturalmente questa era una scelta che evidentemente sapevo che avrebbe comportato degli inciampi. Devo dire che gli inciampi sono quelli che in letteratura mi piacciono, nel senso mi piace, i libri che mi piacciono normalmente mi richiedono, mi insegnano a leggerli, no? E mi richiedono all'inizio di essere un neofita della lettura persino, no? Perché se pensi, leggi la metamorfosi di Kafka e dici, oddio, questo, ma quindi non è, non è cos'è, cos'è, no? E però ti insegna, lui dice non ti preoccupare, ti dice lo scrittore, adesso, adesso vedrai che anche questo lo accoglierai. Quindi, e però questi ti comportano il fatto che tu devi abbandonare un po', che è quello che io chiedo alla letteratura, abbandonare un po' la solidità del tuo mondo certo, linguistico, esperienziale, delle tue letture precedenti e entrare in un mondo nuovo e questo comporta una fatica iniziale. Quanto a chiamare questi nomi, che sono appunto io, madre, padre, nonna, moglie, eccetera, sono dei nomi, come dicevi giustamente tu, relazionali, sono dei nomi che sono in relazione, cioè che dicono che noi siamo in relazione a qualcun altro. E poi c'è questo nome, io, che all'inizio è nato, cioè in realtà questo libro, a proposito di quello che dicevamo prima anche con Anna, è nato come una poesia, cioè questo libro è nato in un minuto e mezzo, io ho visto tutta la struttura, poi ci avrei messo sei anni o sette anni a scriverlo, ho visto tutta la struttura e il nome del protagonista si chiamava io, punto. Nel senso, ero io, perché le case che all'inizio avevo cominciato a raccontare erano mie, ma era un personaggio, no? E in fondo la questione, se devo dirla proprio in maniera molto basica, del perché è in terza persona, è che noi passiamo la vita a dire io, no? E diciamo io a tre anni, diciamo io a dieci, a venticinque, e però poi se noi oggi andassimo davvero a rincontrare quel ragazzo, quella ragazza di sedici anni, faremmo fatica, cioè continuiamo a usare io, quindi lo stesso nome, ma faremmo fatica davvero a pensare che siamo la stessa persona, no? E quindi in qualche modo, in qualche modo ogni io è un personaggio, ed è così, e se vuoi è il nome di personaggio, al di là che uno possa far fatica all'inizio, ma è il nome di personaggio che tutti nella vita abbiamo usato. Mentre Mario l'hanno usato solo i Mario, e Luigi sono i Luigi, e Luisa sono le Luise. Io, per definire noi stessi, l'abbiamo usato tutti. Grazie Andrea Baiani, e grande in bocca al lupo per il premio Strega, che insomma ci siamo quasi, giovedì 8 luglio, che sarà la serata conclusiva Villa Giulia a Roma, in diretta sulla RAI, ti seguiremo, e in bocca al lupo certamente per il primo Campiello e anche per il primo Viareggio, cioè veramente sei riuscito a contestare tutti i più cambi italiani. Davvero complimenti, grazie davvero a Anna Ramella e a Angela Baglio per essere fatto con noi. Grazie, grazie a tutti, grazie a tutti. Ciao! Ciao!